Ciao a tutti, riprendiamo il nuovo capitolo di Outlast PS4. Sarevamo fermati che sarebbe inseguiti un brutto cattivo cattivo con una mannaia e grazie a un balzo felino siamo finiti sopra una bottola e da lì poi siamo caduti e ci ha rincorso fino a che siamo arrivati in questo posto che mi sembra tranquillo per il momento. Andiamo a leggere cosa ci dice questo breve scritto La prego di citare le immediate dimissioni del collaboratore numero 5 e 3 David Annapurna e di ricoverarlo come paziente di Mount Massive per curarle le manie di persecuzione. La cura dovrà protrarsi fino al sopravvenuto decesso Allora io non mi ricordo da dove siamo venuti Forse... Allora facciamo... Forse sinceramente... Allora... Forse la lascia a nostra pagina... Ormai bisogna guardare sempre in alto perchè fatele trovare delle... Allora di qua non si passa... Allora... Andiamo a vedere dove ero prima... Allora... Andiamo... Allora... Mi ha sembrato di vedere forse una porta qua... No... Qua? Ah! No! 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 Mi uso per tristezza. Ah! Stava qua. Ah! Qui eravamo già andati. C'era... Questo... Il braccio allo stile. Qua c'era il tipo che mi chiamava. ...va? ...va, eh... ...almente sono uniti da qua. Si. Va, va... Andate. Andate. Allora, un attimo se lo facciamo rinforzare... A direnci la cosa si va a fermi qua. un po' anche andare attento si perde devo vedere se non si tracciasse da qua sopra no forse da qua ah bene i had to burn it all of it murkhoff took so much from us used us took us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatic so let it burn a volte bisogna seguire a maschirare il sangue per non perdersi a volte invece siamo un po' così invaliati noi stessi a raggiungere il nuovo aglio da pieno tutto il cavolo è passato non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla interessante non c'è nulla interessante se soffri di allucinazione faccielo sapere il bisogno della stessa la vicinanza con patologie psichiche non è nulla di cui vergognarsi si parla con il tuo supervisore per ricevere l'assistenza parte non c'è nulla 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 non si apre io vado anche a provarci devo prima aprire la valvola di l'impianto non ho detto per il nome di l'impianto è andato sono secondo me a quanto non è anche molto però lo hanno un po' di le fare non ho vero ma tablare al수ilia non so dov'è che ci fa ripartire in verità quindi io non so dov'è capire va bene mi provano a scendere qua poi vediamo certo che ci vuole in alcuni momenti in questo gioco molta pazienza quindi non bisogna essere disordinati e frettolosi perché sennò si muore di continuo senza scampo poi tra l'altro senza scampo però sta mettendo molto arrivare qua magari apro e deve essere fuori no qui andata E' un po' di più. Siamo qua, ne abbracchiamo. Con una bella testata attaccata alla porta e buonanotte ai suonatori. Ho capito che prima devo schiacciare quello, però anche tu. Allora, lui viene qui qua. Vabbè, è facile andare indietro. Sicuramente si verrà a fare un giocino. Sì, è stato un giocino. È una bella testata che si vede. È stato un giocino. E' un giocino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.